Buonasera a tutti, io sono il professor Carlo Cambini del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e questa sera ho il piacere di introdurre questa sessione su piattaforme tecnologiche ricchezza, potere e libertà. Sappiamo tutti quanto oggi le grandi imprese digitali, le grandi piattaforme digitali hanno un dominio sul mercato sconfinato sostanzialmente, sono diventate le cosiddette GAFA, Google, Amazon, Facebook e Microsoft, le imprese leader al mondo in termini di capitalizzazione e in termini di valore economico. Tutte queste imprese in questo periodo peraltro di crisi sono imprese che tra le poche, fortuna loro, ovviamente sono cresciute molto. Allo stesso tempo c'è una cosa molto importante che è da dire, che negli ultimi tempi le istituzioni europee ma anche quelle americane hanno cominciato a cercare di capire tutto questo grande potere di mercato da dove derivava e hanno aperto tutta una serie di casi antitrust nei confronti di queste imprese. Non ultimo, poche settimane fa, mi pare addirittura la scorsa settimana, la Commissione europea ha aperto un caso contro Amazon e quindi la domanda che qui dobbiamo farci è la seguente, ma questo potere di mercato è stato ottenuto in modo lecito? Che potere hanno queste imprese grazie all'utilizzo dei dati che sostanzialmente noi forniamo e quale impatto tutto questo ha non solo sul funzionamento dei mercati ma anche sulla privacy dei singole persone? Bene, questo è l'argomento della discussione di questa discussione che abbiamo questo pomeriggio, insieme al professor Giuseppe Berta. Il professor Giuseppe Berta è uno dei più grandi storici, esperto di storia dell'economia e storia delle imprese in Italia, insegna a Nulesa Bocconi ed è stato associato all'Accademia dei Lincei. Quindi lascio la parola al professor Berta per un'introduzione sul tema e poi io raccoglierò le domande fatte dal pubblico e in modo tale poi da indirizzarle al professore non appena finito il suo intervento. Ringrazio ovviamente a nome di tutto il Politecnico il professor Berta per intervenire e lascio la parola a lui. Grazie Borsellor Campini, grazie a tutti coloro che mi ascoltano. Mi trovo a parlare di un tema che è abbastanza singolare e che ha elementi sicuramente di novità in questo ultimo periodo, perché il tema del potere delle piattaforme tecnologiche, della loro grande influenza sul sistema economico degli Stati Uniti e in generale del mondo, il rilievo che hanno le loro azioni sono temi che sono di crescente interesse per l'opinione pubblica internazionale, al punto che oggi si parla apertamente del capitalismo delle piattaforme, delle piattaforme tecnologiche così come si sono configurate negli ultimi anni. Si parla di un potere che è un potere sia economico, sia di intervento, sia di indirizzo della società americana e internazionale. E se ne parla anche per il rilievo politico crescente che gli atti del capitalismo delle piattaforme tendono ad avere sulla società, non solo negli Stati Uniti, ma sulla società occidentale nel suo complesso. Sono temi che sono emersi, direi, con prepotenza soprattutto nel corso dell'ultimo anno. C'è stato un tempo, non lontano dai nostri giorni, da quello che stiamo vivendo, pochi anni fa, in cui si guardava invece al capitalismo delle grandi piattaforme tecnologiche come a un elemento, diciamo così, quasi intrinsecamente progressivo, positivo. Io penso per esempio ai tempi non lontani della Presidenza degli Stati Uniti di Barack Obama, quando Barack Obama, il Presidente Obama, riservò un'attenzione molto particolare per le grandi piattaforme tecnologiche, al punto da promuovere una serie di contatti con una frequenza tale, con i loro gruppi dirigenti, da dare l'impressione che si stesse configurando quasi una sorta di alleanza tra il potere politico americano e il dinamismo, anche il dinamismo di queste punti del capitalismo americano costituite dalle piattaforme tecnologiche. In particolare, se si va a vedere gli anni abbastanza recenti della Presidenza Obama, si può riscontrare l'assiduità dei contatti che intercorsero tra le strutture del governo americano e della Presidenza e le strutture in particolare di una piattaforma, Google, che più delle altre si prestò a questo dialogo, a questo confronto e si nota come Google sia stata, negli ultimi anni della Presidenza di Barack Obama, il soggetto d'impresa che ebbe più contatti, ebbe una continuità, una regolarità di contatti con la Presidenza degli Stati Uniti. Allora, mettiamo una data se vogliamo per indicare questa tendenza, allora fino al 2015 parve che ci fosse quasi una convergenza o quantomeno un'accentuata sintonia tra i comportamenti delle piattaforme tecnologiche e in particolare di Google e gli interessi di lungo periodo della promozione tecnologica che andava sostenendo la Presidenza degli Stati Uniti. Poi, ecco, abbastanza improvvisamente questo clima è profondamente mutato. Ebbè, direi che è mutato fondamentalmente, se dovesse indicare una data, abbastanza di recente. L'anno è il 2019 ed è l'anno in cui, invece, cambia l'attitudine nei confronti dei grandi soggetti della tecnologia africana, delle maggiori imprese della tecnologia degli Stati Uniti e si sente levarsi un fervore di voci critiche, anche estremamente critiche, nei confronti del capitalismo delle piattaforme, come lo si chiamano allora. Direi che proprio il 2019 è l'anno cruciale di questo cambiamento di indirizzo. è un anno cruciale perché le voci dei critici del capitalismo delle piattaforme tecnologiche tendono a essere quasi dominanti e, nella opinione pubblica americana, rende, direi, sopravvento quasi un'attitudine, un orientamento critico nei confronti delle piattaforme stesse. Un orientamento critico che si sviluppa nel corso degli anni e degli ultimi anni in particolare e che, nonostante, ecco, proprio il 2020, proprio la crisi drammatica in cui siamo ancora immersi, abbia consolidato i valori e le portazioni di borsa, la zona di influenza economica del capitalismo delle piattaforme, nonostante tutto questo sia avvenuto, si è verificato, d'altro canto, una crescita degli atteggiamenti di critica nei confronti degli atteggiamenti delle grandi piattaforme tecnologiche, del GAP, G-A-F-A, come si chiama, Google, Amazon, Facebook, e, in sostanza, i grandi soggetti del capitalismo americano sono stati messi su un terreno d'accusa perché è accusati, appunto, di perseguire propri interessi particolari, specifici, a detrimento del pubblico americano. Quando è emersa questa tendenza? Questa tendenza è emersa pienamente visibile alla fine del luglio di quest'anno. Il 29 luglio del 2020 è importante per il capitalismo delle piattaforme perché per la prima volta c'è una sessione dell'antitrust dedicata specificamente a questi soggetti che vengono in certa misura porti sul banco d'accusa e a cui viene infacciata la tendenza ad adottare pratiche monopolistiche con effetti distorsivi rispetto alle dinamiche di mercato. Allora, è la prima volta che, con la data del 29 luglio di quest'anno, è la prima volta che il capitalismo delle piattaforme viene messo sul banco degli accusati e viene messo sul banco degli accusati dal sistema politico americano. nel suo complesso, non solo da uno dei due grandi partiti, ma in questo caso è il partito democratico, dunque il partito di Barack Obama, che aveva sostenuto in passato le piattaforme tecnologiche a prendere una posizione effettamente critica attraverso alcuni parlamentari che appartengono al suo schieramento. Nel medesimo tempo, va detto, i repubblicani non si distinguono per un atteggiamento più tollerante, più comprensivo, meglio disposto, diciamo così, nei confronti del capitalismo delle piattaforme, perché non si schierano o non tendono ad avere una posizione maggiormente disponibile nei confronti di queste grandi imprese. Il motivo è molto semplice. Il capitalismo delle piattaforme è largamente identificato con il partito democratico. Insomma, si pensa che i soggetti principali che danno vita al capitalismo delle piattaforme e ne dirigono gli orientamenti sostanziali abbiano una netta propensione a far un ruolo del partito democratico. Allora, a leggere la cronaca di quella giornata, peraltro un po' prudente, perché non è successo nulla, almeno fino adesso, può darsi che sicuramente qualcosa capiterà di quei prossimi mesi, sembrerebbe che nell'estate scorsa nessuno dei due grandi partiti americani, pur radicalmente divisi su tutto dopo la presidenza di Donald J. Trump, che nessuno dei due grandi partiti sia disposto ad avere un atteggiamento di non solo accettazione, ma anche di comprensione per i motivi profondi del capitalismo delle piattaforme. Gli uni, i democratici, o almeno i democratici che prendono la parola quel giorno al congresso americano alla fine del luglio scorso, hanno parole piuttosto pesanti e accusano l'elite direttiva del capitalismo delle piattaforme di gestire le cose come vogliono e di manipolare la massa vastissima degli utenti delle loro strutture in modo da sfruttarne e da trarre un beneficio consistente. Il partito repubblicano adotta un orientamento diverso in quella serie. Il partito repubblicano si limita a sottolineare la sua distanza rispetto al mondo del capitalismo delle piattaforme. È notissimo, per esempio, che Jeff Bezos, che è il titolare della piattaforma più importante Amazon, quella che ha più strumenti di contatto col pubblico e che organizza il maggior numero di lavoratori è assai malvisto dal partito repubblicano. Il presidente Trump gli ha rivolto delle accuse pesanti, gli ha mosso degli attacchi anche molto consistenti, l'ho accusato in più occasioni di manipolazione, di atteggiamenti politici non corretti, di un'opposizione pregiudiziale al suo governo. Ma direi che in quella prima tornata di confronto fondamentalmente sia i parlamentari democratici sia, più defilati naturalmente, i parlamentari repubblicani non mostrano molta comprensione per il capitalismo delle piattaforme e per i loro esponenti, che dopo la breve pausa di crisi di sospensione a seguito del coronavirus in primavera hanno ripreso a cuore, raggiungono nelle state complessivamente un valore di 5 mila dollari, poi lo supereranno, abbiamo visto in questi mesi, anche se con tendenze non lineari e c'è uno schieramento però all'improvviso politico a trasversare che critica questo peso. Qual è l'accusa che si muove loro? Ecco, qui direi che andiamo su un nodo sottilissimo. L'accusa è naturalmente quello di procedere a pratiche monopolistiche, cioè è il vecchio male del capitalismo americano che torna regolarmente sotto il fuoco di riflettori dell'opinione pubblica, della politica, che vede nel capitalismo americano un soggetto il quale sfrutta ogni varco per consolidare il suo potere e trarne vantaggio. Ma che cosa c'è che non funziona tanto? Tant'è che appunto questa riunione della fine del luglio scorso si conclude con un'audizione in cui i rappresentanti maggiori del capitalismo delle piattaforme prendono apprettamente la parola e tuttavia non c'è un grande seguito e il confronto si chiude quasi rapidamente come si è aperto con un rendito. Qual è il punto che risulta problematico nella loro posizione sia per la loro difesa ma soprattutto per l'accusa? La cosa che gli viene mossa appunto è quella di proseguire pratiche monopolistiche di vantaggio agendo trasversalmente. Le piattaforme unificano attività estremamente eterogenee tra di loro e si avvantaggiano appunto dalla possibilità di muovere contemporaneamente delle leve estremamente variate, estremamente diverse. Questa accusa però è difficile poi da sostenere utilizzando gli argomenti classici della critica antimonopolistica che ha una lunga tradizione nella storia americana dalla fine dell'Ottocento. Ricordiamo che lo Schurman Act, il pietro angolare della politica antitrust risale addirittura al 1890, risale alle grandi battaglie anche politiche contro il cosiddetto Robert Barnes, cioè i grandi proprietari delle aziende dediti a pratiche monopolistiche che sfruttano il coso sempre più vasto ai consumatori per costituire delle posizioni impropri di vantaggio. E' dimostrabile che sia così nel caso del capitalismo a questa forma. Si può dire di loro quello che si diceva negli anni 90 dell'Ottocento, nei primi anni del Novecento, dei grandi capitalisti che creavano i messi complessi siderudici o i grandi trust ferroviari? Si può muovere loro lo stesso tipo d'accusa? Evidentemente no, perché questo è il punto più complicato della controversia che si è aperta in America, perché queste pratiche che hanno una ricaduta monopolistica non hanno tuttavia un prezzo misurabile per il consumatore. Questo è un aspetto molto importante e io vorrei sottolineare all'attenzione di chi ha interesse per questi problemi, per questi aspetti, e cioè il fatto che non si può dimostrare come gli argomenti classici della difesa della libertà di concorrenza che le pratiche monopolistiche messe in atto da queste concentrazioni, quali sono sicuramente le grandi piattaforme tecnologiche, abbiano un prezzo che il consumatore è costretto a pagare. La gran parte dei servizi per cui si ricorre alle piattaforme tecnologiche è ancora largamente gratuita, cioè non c'è un prezzo assoggettato ai procedimenti del mercato da pagare e la gran parte dei servizi che vengono erogati dalle piattaforme tecnologiche ha carattere gratuito. Allora, la domanda fondamentale è come si fa a dire che un servizio che è erogato in forma gratuita possa avere dei risvolti e delle ricadute monopolistiche? Questo è il cuore della persona. Come si può dimostrare che il comportamento delle piattaforme tecnologiche tende a creare delle posizioni di rendita, delle posizioni improprie di vantaggio, agendo sulla propria base delle relazioni che sono di mercato sensolato con la massa crescente degli utenti? Come si può dire che gli utenti di Facebook, degli utenti di Amazon, per tanti versi, lo diremo tra un attimo, e via via di Google e così via, possono rientrare nelle categorie difese dalle politiche antitrust proprio perché sono esposte a un'azione combinata che tende a utilizzare il rapporto con il consumatore finale per trarne un beneficio improprio, improprio perché non evidente, non dichiarato, perché occulto, perché, diciamo così, è un'azione combinata che è disseminato nelle pieghe delle relazioni con questo universo che solo in parte può essere definito di consumatore o comunque di persone, di soggetti individuali, collettivi, sociali che si rivolgono alle piattaforme tecnologiche per averne un vantaggio relazionale, per costruire delle relazioni. E infatti è su questo punto che si è interrotto il primissimo concronto tra le grandi piattaforme tecnologiche e i loro critici in ambito politico. Quella prima sessione si è risolta, questo è stato un commento che alcuni hanno fatto, alcuni giornali, penso in particolare all'Economist, che hanno detto in fondo non poteva risolversi quel primo confronto che con un nulla di fatto, perché non c'era una base sufficientemente solida per strutturare un'accusa che esce, che fuoriesce, per tanti aspetti, dalla tradizione classica dell'antipagno. Ecco, questo è un punto particolare. La mia personale posizione è che l'Economist, il settimanale inglese, sia stato forse propronciante nel dire che non è possibile andare molto avanti nel campo della politica antitrust quando si tratta delle grandi piattaforme tecnologiche. A mio avviso è possibile. È possibile però con un cambio di prospettiva, con un cambio di analisi, del metodo di analisi, della natura di un problema che è sinceramente molto mutato rispetto all'impostazione che ebbe in origine appunto tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Qui non stiamo parlando della vendita di oggetti, di servizi specifici, ma stiamo parlando di un atteggiamento che tocca il carattere relazionale dello scambio che avviene tra le piattaforme tecnologiche e i loro utenti. Questo è il punto davvero cruciale. Che cosa fanno le piattaforme tecnologiche quando entrano in contatto col mondo dei loro utenti barra consumatori? Propongono loro una serie di possibilità di costruzione di relazioni, dando adesso la capacità di costruire dei canali, delle reti di relazioni che però sono formalmente sempre sottomessi all'autorità e al controllo dei produttori di quei sedi. questo è il punto cruciale. Quando io mi rivolgo a una piattaforma tecnologica per avere un'informazione su un servizio, su un ristorante, su una vendita, su un bene che voglio acquistare, immediatamente entro in un involuto di scambio di contatti che mi vede nella situazione di essere l'oggetto di offerte progressive di altri servizi cumulativi rispetto a quelli per i quali io mi sono rivolto a quella piattaforma. Per cui se io, una cosa più banale che può venire in mente, se io richiedo l'acquisto di un libro mi vedo proporre dieci altri libri analoghi, oppure se io chiedo un'informazione relativa a uno spettacolo mi vedo una serie di altri spettacoli con informazioni su ristoranti, frequentazioni, luoghi di incontro, sono nella prossimità di quello spettacolo che io voglio vedere e di cui io voglio essere consumatore. Questo ampliamento si produce con una rapidità elevatissima. In altri termini, la mia dimensione di consumatore risulta alla fine quasi stravolta dalla massa di offerte connesse che io mi vedo giungere a casa, sul mio cellulare, sul mio computer e così via, da operatori i quali hanno rapidamente una informazione molto articolata, molto complessa e molto dettagliata della mia posizione nella società, nel lavoro, in un sistema di relazioni familiari o amicali e perciò fanno leva su quel complesso di riferimenti per propormi una sempre più ampia e variegata di servizi. Questo è il fenomeno che vede la mia trasformazione, diciamo così, da consumatore potenziale in consumatore ideale. Io divento, grazie a quel contatto che ho sviluppato, una sorta di consumatore ideale per le piattaforme tecnologiche, le quali immediatamente vedono la possibilità di propormi una serie di altri servizi, di altri acquisti, di altri contatti e così via. e immediatamente si espande la base delle mie relazioni su una serie di campi che io non avevo né preventivato né messo in conto, ma di cui mi trovo immediatamente a rientrare. A rientrare si potrebbe se io ne voglio, io devo sottoscrivere comunque un accordo con la piattaforma per rientrare in quelle forme di consumo. Ma non è propriamente così, perché io scopro rapidamente che la piattaforma con la quale io sto dialogando sa di me molto più di quello che non solo io sappia di lei, ma forse di quello che so di me stesso, delle mie abitudini, anche delle mie frequentazioni, spesso spontanee, non governate da una logica precisa. Cioè la piattaforma è in grado di attivare in maniera praticamente istantanea una massa di informazioni sui miei comportamenti e non mi riferisco solo ai elementi di spesa, ai comportamenti economici, ai miei comportamenti anche se si vuole sul piano delle scelte di valore, delle relazioni amicali, oppure delle relazioni di solidarietà e, in questo punto, in senso lato politico. Questo è il punto. Io ho la possibilità di scoprire in brevissimo tempo che dopo aver acquistato un servizio, di aver comprato un libro, di aver prenotato un ristorante, di aver scelto uno spettacolo per il quale ho acquistato il biglietto, all'improvviso vi vedo giungere sul computer una massa di dati, di proposte, di elementi di offerta che mi cattura in sequenza di comportamenti e di scelte che io non ho operato consapevolmente e immediatamente mi ritrovo inserito in una sorta di comunità di micro comunità, nel caso specifico. Mi si estrae molto sull'elemento della micro relazionalità di tutto questo che da una parte ha lo scopo di rassicurarmi, di farmi sapere che c'è un grappolo di persone che non solo si comporta come me e condivide le mie scelte, ma che tende a servirsi di quel canale che ho appena utilizzato per comprare le stesse cose e per adire agli stessi servizi. Ecco, è la creazione artificiosa di una comunità in cui io mi ritrovo immediatamente inserito e di cui mi si dice se vuoi entrare in contatto con quelli che si comportano come te vedrai che fanno queste cose, vanno questi spettacoli, vanno questi ristoranti che non sono lontani dal luogo in cui vivi, che frequentano questi spettacoli, che hanno insomma una serie di gusti che sono avvicinabili, che sono apparentabili ai tuoi. Ecco, questo ci riporta a uno scandalo che è successo qualche tempo fa, quello che ha coinvolto in particolare Facebook. Facebook è la piattaforma, come tutti sappiamo, che è dedita proprio dalle sue origini a costruire relazioni, a tessere delle trame di incontro e di contatto che dovrebbero avvantaggiare me in quanto persona, non in quanto consumatore, facendomi, dandomi la possibilità di ritrovare delle altre persone che hanno i miei stessi gusti, le mie stesse comprensioni, che sono mosse probabilmente da elementi di affinità che io posso riscontrare con grande facilità, solo dei miei simili, solo dei miei affinità. Questo è il punto che secondo me è più cruciale dal punto di vista politico, perché chiama in causa la possibilità delle piattaforme tecnologiche di costruire dei sistemi di relazione che possono essere utilizzati in campo politico quando ci sono scadenze politiche e via dicendo. Questo è un aspetto estremamente, a mio avviso, interessante, anche se non va sottovalutato, non va isolato dal resto, va ricomposto, va ricompreso nel complesso delle altre attività. Sono gli scandali per cui, nati anche in Gran Bretagna e sottolineati più volte in America, per cui si creano delle famiglie, delle analogie politiche, si creano una tessitura di relazioni che non hanno di per sé in maniera iniziale un aspetto politico, ma che poi tendono a configurarsi anche come relazioni che hanno un diretto rapporto con la politica, perché presuppongono che si sientra in contatto con persone che hanno non solo gli stessi interessi, una posizione analoga nella società e così via, ma che, partecipando dello stesso approccio alla vita, possono decidere di esprimere un orientamento politico. Questo è l'aspetto più delicato che era immesso anche prima dell'anno scorso, ma che è saltato all'occhio in maniera più decisiva, cioè la capacità delle piattaforme tecnologiche, partendo da elementi che sembrerebbero quasi marginali, la scelta di un film, la scelta di un libro, la scelta di un ristorante, la scelta di una forma di leisure, di un lavoro di divertimento, per approdare invece a orientamenti politici di carattere generale. Questo è il vero e più delicato punto che chiama in causa questo sistema di social media. Il sistema di social media, nella versione che ne hanno dato le piattaforme tecnologiche, è un sistema che si presta assai bene a essere incanalato verso determinate forme di partecipazione politica. E qui il discorso diventa subito molto complicato. Ci si richiama anche agli scandali di questi anni, ci si richiama anche al dibattito sull'uso politico delle piattaforme, e ci si richiama anche a uno scenario che vede la politica sempre più stretta alleata di queste forme di controllo tecnologico. Ora, in particolare, anche qui torno a ieri e oggi, in passato si era detto che Barack Obama e le sue strutture politiche che hanno condotto anche alla sua rielezione nel 2012 hanno fatto largo uso dei social media e hanno fatto largo uso di queste tendenze a rilevare e connotare il comportamento del cittadino consumatore. C'è una battuta che mi sembra sia riportata nell'importante libro di Susanna Zubo sul capitalismo delle piattaforme, che dice che i gestori di queste piattaforme sanno prima di te come tu voterai alle prossime scadenze elettorali. loro sono in grado di orientare il tuo voto prima ancora che tu pensi razionalmente a chi potresti assegnare la tua preferenza. Ora, io non vorrei sovraccaricare questa dimensione ma certamente essa esiste. Essa esiste e si è visto che la predittività per prevedere il comportamento politico è un grande attu nelle mani delle piattaforme del mondo. Essere sono in grado, attraverso l'analisi dei comportamenti delle milioni di persone che appariscono le piattaforme, di affrontare almeno in parte l'orientamento politico. e di saper indirizzare le loro scelte agendo appunto sulla costituzione di quelle micro comunità che ci davo prima. micro comunità che possono essere guidate, dirette, orientate, spinte quasi inadvertibilmente a riconoscersi in gruppi di opinione rispetto ai quali essersi sentono omogenei, almeno omogenei in larga parte. Questo è il punto vero, probabilmente, che colpisce di più e che, ecco, fa sì che con il capitalismo delle piattaforme, con questo nuovo tipo di grande impresa fondata sulla capacità di entrare in contatto con un numero sempre crescente di persone, di sensibilità, di orientare, massicciamente il comportamento, le scelte politiche e anche, se volete, le inclinazioni complesse degli erettori. naturalmente si può discutere molto lunghi, ma certo, ecco, questo è un punto decisivo, certo tutto questo conta, e conta parecchio. e una parte dell'opinione pubblica americana, o almeno una parte anche di quella più sensibile al dibattito politico, agli orientamenti, ha mostrato nel corso degli ultimi anni, anni 2019-2020, una certa sensibilità e anche, vorrei dire, una certa reattività per questi temi che sono enormi per la prospettiva della democrazia in tutto il mondo. allora, ecco, tutto questo, come se ne viene a capo? è possibile venirne a capo? Io, che non voglio rubare troppo tempo su questa questione, mi limito a dare, come dire, un punto di vista, una possibile, indicare una possibile prospettiva per cui guardare a questo punto. qui le possibilità, evidentemente, sono due. Uno, che non capi di nulla e che si vada avanti col potenziamento impressionante delle piattaforme tecnologiche, come si è andate avanti, non voglio dire negli ultimi anni, ma in particolare nel 2020, da quando è esplosa la vastissima, impressionante e inedita crisi in cui noi siamo, noi ci vogliamo. allora, la possibilità è certamente che il capitalismo delle piattaforme possa andare avanti lungo la strada che ha già intrapreso. allora, qui ci sono fondamentalmente due percorsi possibili. tutti sappiamo che il capitalismo delle piattaforme non è potente solo negli Stati Uniti d'America, non è potente solo nel mondo occidentale, ma sta diventando molto potente in Cina. e in Cina però, ecco, questa è la differenza profonda, c'è un sistema politico strutturato in un modo che non lascia che il capitalismo delle piattaforme occupi tutto lo spazio che potenzialmente sembrerebbe a sua disposizione. abbiamo visto, sono cose di questi giorni, anche il comportamento che le istituzioni cinesi hanno riservato al GIEC, ma che è il principale soggetto in Cina del capitalismo della piattaforme nella sua emozione orientale e abbiamo visto come GIEC sia stato ricondotto a una serie di comportamenti controllati proprio per il fatto che il partito comunista cinese lo controlla molto vicino e non permette che GIEC possa godere di uno spazio. Allora, nel caso della Cina, un sistema politico, una cornice politica, autorità dittatoriale, fa sì di contenere il capitalismo delle piattaforme dentro limiti che ritiene siano ben determinati e che quando sorgono delle spinte che possono portare questi soggetti ad acquisire troppo potere immediatamente scatta una reazione della politica dominante che riporta questi soggetti, questi protagonisti della vita economica e pubblica dentro il rispetto di una griglia di vincoli e di poteri assai ben determinati. Quello che abbiamo visto nel caso della Cina è esattamente, anche nei giorni passati, è una reazione di questo tipo. che i social media, le piattaforme tecnologiche devono rispettare il proimato della politica del partito comunista cinese, devono rispettare i vincoli che sono stati assegnati a questi soggetti e che non possono essere scusati. Diverso è certamente il caso in occidente. In occidente abbiamo visto, anche i contrasti tra la presidenza Trump e le piattaforme tecnologiche, ma ai contrasti anche oggi, all'interno del campo del partito democratico e nei confronti del capitalismo e delle piattaforme, mostrano come ci sia un'area di tensioni, di spinte contro spinte che probabilmente, se dovessi fare una scommessa, la remote in campo, ma la farei, porterà a mettere in campo delle forme di regolazione. Quali possono essere queste forme di regolazione? Per esempio impedire che le piattaforme tecnologiche siano presenti su un ventaglio molto esteso, praticamente infinito di regolazione. Si tratta di creare delle barriere per cui ci siano dei soggetti i quali assumano una minore responsabilità verso il pubblico e accettino una sorta di griglia politica in cui sono inseriti che tende a limitare i loro poteri e i loro margini d'azione. Allora, lo scenario che io, per concludere questa conversazione, intravedo è un scenario in cui le piattaforme tecnologiche vengono ricondotte a una forma di autorità politica o istituzionale. In Cina le piattaforme hanno grande libertà d'azione, ma a condizione che rispettino i vincoli politici sanciti dall'organizzazione e dal primato del Partito Comunista cinese. In Occidente siamo appena all'inizio di un percorso che sarà sicuramente lungo occidentato, secondo me, ma che vedrà una dialettica, una tensione tra le piattaforme tecnologiche e soggetti che cercheranno di far valere il principio di regolazione e di disciplinamento. Perciò riducendo i loro poteri, riducendo l'estensione della loro attività e soprattutto riducendo i loro margini d'azione. Sono due percorsi diversi, due percorsi che però sono destinati a condizionarsi, oltre che in qualche misura intrecciarsi vicendevolmente e a far sentire l'efficacia della loro soluzione in termini reciproci. Ma io credo che oramai siamo entrati in una dimensione, in una sfera in cui il disciplinamento del capitalismo tecnologico, delle piattaforme tecnologiche che sono emerse così prepotentemente nel corso dell'ultimo decennio dovrà assistere a un confronto e che gli effetti di tutto questo saranno visibili nei prossimi anni. Ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie mille professore dell'eccellente lezione. Io mi scuso se sono intervenuto ma perché ci sono già delle domande che io ovviamente le giro immediatamente. La prima domanda è la seguente. Non sarebbe il caso di proporre alle istituzioni di adottare in Europa una nuova legislazione onnicomprensiva specifica alle piattaforme, comprensiva di antitrust, privacy, libertà di parola, sicurezza nazionale? Allora, questo è senz'altro possibile. Allora, volevo dire che potrebbe essere anche auspicabile, però aggiungo subito questo. Le piattaforme, non ci sono forti, grandi piattaforme europee. L'Europa, da questo punto di vista, è più un territorio aperto alle incursioni di altri soddisfetti che non una realtà che ha i propri campioni continentali, chiamiamoli così. Non ci sono campioni continentali. Non abbiamo elaborato all'interno dell'esperienza europea delle piattaforme tecnologiche che siano minimamente comparabili con i giganti di cui ho appena parlato. Innanzitutto non ci sono i termini di valore, di estensione. Vediamo come siamo esposti. Abbiamo seguito, per esempio, le vicende dei weeklicks in Inghilterra. Abbiamo seguito, vediamo, la battaglia che fa Amazon per imporre sconfirmato nel contesto europeo. Noi non abbiamo, nella nostra realtà, delle piattaforme specifiche. È chiaro che se giocheremo di rimessa, diciamo così, cioè se giocheremo solo per limitare soggetti che hanno il loro territorio primordiale in un'altra parte del mondo e che giungono all'Europa solo per sviluppare le loro politiche, il nostro potere di intervento, temo, sarà inevitabilmente ridotto. Si può fare qualcosa, ma certo il capitalismo delle piattaforme è oggi una realtà, diciamo così, non europea. Chiarissimo. C'è una seconda domanda che credo forse chiuderà. Anche questa molto interessante, che le giro subito. Riguardo il modo in cui il capitalismo delle piattaforme vive in Cina. Se è vero che l'autoritarismo aiuta ad una maggior regolazione, non è vero che però così le piattaforme diventano strumenti in mano al potere politico? Secondo lei il controllo democratico nelle società occidentali può funzionare? Allora, sono due domande molto impegnative. Io non posso che dare una risposta molto approssimativa. In quattro minuti lo posso dare. Alto dalla seconda, cioè il controllo democratico. Il controllo democratico, diciamolo subito, non l'abbiamo finora esercitato sulle piattaforme tecnologiche. Qui rimando al libro discutibile, ma vasto, importante, che ha fatto discutere moltissimo, di Shuljana Zuboff. Che è stato un quadro secondo me troppo pessimistico nel potere delle piattaforme, ma certo in un libro anche a qualche parte, diciamo così, forse un po' ridondante persino, è un libro comunque che va detto, che ha fatto discutere moltissimo e che ha suscitato infinite reazioni, prezimposizioni e fa capire che non si può lasciare alla spontaneità, di che cosa vuole rispondere? Non è neanche il mercato, non è neanche il mercato, è una dimensione che chiama quasi in causa, per certi versi, Zuboff insiste molto su questo aspetto, la natura umana intende a incidere direttamente su attitudini che sono specifiche della natura umana. Nel caso della Cina, la Cina è probabilmente acutamente consapevole che, o almeno pensa di essere avvantaggiata dal fatto di disporre di un tipo di potere politico che può imporre quasi ciò che vuole. Dico quasi perché dire ciò che vuole mi sembra un'affermazione troppo generale. Ma se guardiamo l'attuale fase della politica cinese, diciamo, essa sembra convinta di poter porre dei limiti ai comportamenti dei grandi capitalisti delle piattaforme che non possono che adeguarsi alle condizioni che vengono loro date. E torno di nuovo all'esempio di Jack Ma, una piattaforma che vale tantissimo, la sua enorme dal punto di vista dell'istituzione commerciale, è stato l'uomo più ricco della Cina. Adesso le classifiche lo fungono secondo o forse terzo posto, ma comunque siamo certamente nel top dell'istituzione commerciale, ebbene, anche Jack Ma è stato, come dire, convinto a rientrare nei ragni. Cioè non può in ogni caso mettersi in contrasto col potere politico. Questo dà alla Cina la convinzione di essere su un terreno competitivo privilegiato con l'Occidente. Cioè la Cina è convinta che proprio perché non ci sono, come dire, le complicazioni della democrazia e, come dire, l'articolazione dei poteri che è presente nella strada occidentale, essa ha un vantaggio. Il vantaggio è di poter ordinare i livelli di influenza con la propria autorità politica. E' quasi storica, perché lì è una Cina che non è solo la Cina del 1949 in poi, del potere comunista, ma è una Cina millenaria che è abituata col sistema imperiale a disciplinare i comportamenti economici. Ecco, la Cina ha in questo momento, per quello che io posso intendere, una grandissima fiducia in se stessa e pensa di essere in larga parte aliena o esterna ai sistemi di influenza occidentale, di non dover fare il conto con l'opinione pubblica, con i movimenti di opinione, con la lotta politica e perciò di poter esercitare un disciplinamento dall'altro. Personalmente, ma non so se il mio sia anche un auspicio, io penso invece che i conflitti tenderanno a emergere anche lì, anche in quell'ambito, perché sono troppo profondi. Parliamo di questioni che sono troppo estese per poter essere regolate attraverso una volontà politica che si esprime dall'altro. Vi spiego. Ecco, allora, se questo è vero, io penso che due cose. Primo che nel mondo, nei prossimi anni, sarà segnato anche da questa lotta competitiva tra Stati Uniti, mondo occidentale e Cina, che è una lotta molto diversa di quella che ci fu quando ero un ragazzino, tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, perché non è tanto e solo una battaglia tecnologica che vede la Cina in posizione migliore di quanto fosse l'Unione Sovietica, ma è un confronto che avviene, diciamo così, sul medesimo terreno. Non sono due terreni, come era appunto la lotta Stati Uniti, Unione Sovietica. Per cui l'Unione Sovietica si può fare un terreno. E questo influenzerà moltissimo. Scusa, credo che dobbiamo chiudere un sì o no veloce. Le ultime elezioni americane, secondo lei, sono state influenzate dalle piattaforme? Sì o no? Lo sono state meno che in passato. Ma lo sono state. Grazie. Nel senso che sono entrate in tutto lo schema politico. E questo complica le cose. Hanno avuto maggiore influenza con Barack Obama. Poi hanno avuto molta influenza nel 2016, quando le ha utilizzate spregiudicatamente Trump. Ma oggi l'utilizzo è vasto. e perciò, insomma, tutte e due le parti. Non cambiano. Grazie mille. Grazie, grazie mille a Professor Alberto per l'eccellente lezione. Grazie mille a tutti. Ringrazio il nome del Politecnico Professore e a tutti i partecipanti che sono intervistati. Grazie mille, buona serata. Grazie a tutti quelli che hanno seguito. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. A vederci.